La sentenza del 2 ottobre del 2014, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, è stata confermata dalla Corte di Cassazione a Roma ed è dunque definitiva la condanna a 12 anni e un mese di reclusione per Primo Bisi, il plurimicida 78enne che nel settembre del 2012 aveva tentato di uccidere l'avvocato Francesco Manetti a Ravenna. Confermato per l'anziano anche il risarcimento da 50.000 euro a favore dell'avvocato che dopo il ferimento si era costituito parte civile. Ricordiamo che nel processo di Primo Grado Bisi aveva ricevuto una condanna a 12 anni e 8 mesi ma gli era stata riconosciuta una parziale infermità mentale che aveva portato ad una leggera riduzione della pena. Era il 17 settembre del 2012 quando il 78enne, violando gli arresti domiciliari, con una sparacchiodi modificata e una pistola detenuta illegalmente, arrivò nello studio legale e sparò all'avvocato colpendolo ad un polmone. La motivazione sembrava essere quella della richiesta del pagamento della parcella legale che lo aveva difeso diversi anni prima in tribunale. Bisi infatti a Savio aveva già ucciso la moglie 67 anni e un loro conoscente di 57 anni, mentre nel 1963 a filo di argenta aveva ucciso vicino di casa. Nel 2003 una perizia lo aveva definito incapace di intendere ma capace di volere e ora, dopo quest'ultima condanna, è detenuto a Parma in un carcere di massima sicurezza.